Eccoci con il signor Vincenzo Imparato, lui diciamo che è il futuro di questa azienda ma comunque a quanto pare già ha preso le reti in mano. Vincenzo allora cosa mi dici di questo mercato delle stufe? Allora quest'anno abbiamo fatto una bella vendita di stufe Cola, una grande marca. Come ti stai trovando con la qualità? Benissimo solo che rispetto agli altri anni abbiamo mandato molte più stufe. Come mai questa vendita ti sta incrementando? Cosa te lo spieghi? Dal conto termico 2.0. Ah è il conto termico che stai dando, quindi diciamo che tu personalmente non ci stai mettendo niente del tuo? Sì molto. Perché se è solo il conto termico penso che ci stai mettendo molto. E il tuo obiettivo quale può essere quest'anno con Cola? Prima e secondo posto, o primo o secondo posto. O primo o secondo posto, cioè stai mirando a questo, no? Quest'anno quanti pezzi hai fatto grossomodo? Non lo so, 70-80 di mezzo. 70-80 pezzi, ho capito. Quindi diciamo che c'è la fila qua fuori. Per il resto invece a scuola tutto bene? Tutto a posto. So che hai dei professori fantastici, è vero questo? Però la professoressa buona. C'è pure una professoressa? Com'è questa professoressa? Bella professoressa. Bella professoressa. Cosa insegna? Matematica. Ah bene, devi fare bene i calcoli, collega. Calcola bene, mi raccomando. Vapo Vincenzo, io ti saluto, ti ringrazio e ricordati che è sempre un onore e un piacere lavorare con te. Saluto Maggi. Grazie, ciao, ciao, ciao.